Start, 2, 1, installa missione e liftoff! Quindi ho deciso un pochino di parlarvi del com'è Black Desert alla fine del 2023, io ci ho già fatto numerosi video e personalmente lo ritengo uno dei migliori free to play attualmente in circolazione, non è proprio free to play, è buy to play, ma spesso lo si è trovato anche gratuito su Steam o a metà prezzo, insomma 5 euro, poi il suo prezzo è 10 euro e dal mio punto di vista lo vale tutto. Inizio col dire così schermiamo già se siete interessati o meno a inglese, non è eccessivamente complesso però c'è tantissimo testo, le storie sono anche discretamente interessanti, poi potete farle magari una volta e poi potete skipparle per i personaggi successivi. Non è un tutorial, ci tengo a fare questo disclaimer perché non vi insegnerò a giocare, tante cose non le so e sono anche stimolato, dato che il gioco mi piace, a impararle, quindi se qualcuno di voi dice vuole darmi dei consigli perché dico delle cose magari sbagliate, mi corregga qua sotto nei commenti. Io inizio ho deciso di fare il personaggio stagionale, che cosa vuol dire? Che praticamente noi abbiamo questi vantaggi qui che potete leggere, dell'equipaggiamento diverso da quelli normali e possiamo entrare nei server stagionali che hanno un boost all'esperienza. Inoltre, questo è il mio personaggio, affronteremo diversi temi adesso, ma il bello è che vi permetterà di accumulare tanti oggetti e risorse che poi vi serviranno quando la stagione finisce, generalmente una stagione dura due o tre mesi e una volta che finisce convertirete l'equipaggiamento nell'equipaggiamento base del personaggio regolare, però avrete accumulato un sacco di cose. Io sono a velio, ormai sto passando la vita qui. Inizio subito col dirvi che, giusto per chiarire una cosa, io adesso vado a nascondere questo. Questa qui è l'armatura normale. Nello shop ci sono tanti oggetti che potete comprare con le perle, le perle più o meno, 3.000 perle sono 30 euro. Per dire, tutti questi oggetti possono essere anche acquistati all'asta con i soldi del gioco. Questo è un costume che io ho, ma per altri personaggi ho comprato dei costumi e li ho comprati all'asta per diversi milioni. Ma, e non è neanche così difficile, ma gli outfit, questo outfit qui costa 27 euro mi pare o addirittura forse 30 euro e l'ho ottenuto con una quest di un evento stagionale. Quindi calcolate che se avete pazienza potete ottenere un po' tutto quello che volete. Così come anche, vi faccio vedere anche questo, così giusto per parlare di... si chiama Bundle. È una sorta di... no, non si chiama Bundle. Vediamo se... vabbè, insomma, Pack. Vediamo... Adventure... ci sono praticamente questi. Questi qua vi danno dei bonus Adventure Buff Pack, insomma, che vi danno. Vi tolgono un po' più di tasse nella compravendita degli oggetti all'asta, vi danno dei vantaggi. Sono cose che potete comprare ed è un tributo al gioco se volete, se vi piace, vi prende tante ore. Ma sappiate che nel corso delle avventure io ne ho accumulati un po'. Perché comunque io qui ne ho uno da 15 giorni, andando nell'elenco dei miei... dei miei premi ne dovrei avere anche altri. Che tra l'altro qui ce n'è uno da 20 giorni, qua ce ne sono due da 7 giorni, cioè ne ho accumulati un po'. Quindi con pazienza comunque si riesce ad ottenere tutto. E tra l'altro tenete conto che facendo il personaggio stagionale avete un sacco di pergamene buff. Perché quello che voi potete fare nel gioco va dal combattimento ai mostri, per droppare oggetti, fare soldi, al crafting, al gathering, al processing. E tante altre cose, dalla pesca, insomma tutte le altre cose. Comunque queste sono le lavorative che potete far salire. Da dire ce n'è veramente tanto, ci sono anche una marea di skill che andate a sbloccare. Il livellamento è piuttosto veloce, arrivate abbastanza agilmente al livello 56. Poi dal 56 in poi diventa tutto molto più lento, fino al 60. E poi dal 60 in poi diventa eterno. Ma alla fine, ecco. Quello che poi voi potete fare all'interno del gioco è fare assolutamente quello che volete. Nel senso che avete un equipaggiamento che potete, con le RNG, quindi con un potenziamento diciamo casuale, randomico, potenziare l'equipaggiamento da 1 a 15 e poi vi esce il numero romano 1, 2, 3, 4 fino al 5. Il 5 è il pen, pentagon, insomma 5. Tet è il 4, il 3 il numero romano 3, il duo e il pri che è il base. E questi oggetti, questi oggetti qui, questo equipaggiamento qui è prevalentemente per i personaggi stagionali. Quindi non è una cosa commerciabile, non è una cosa che comunque servirà poi. Ma vi dà una forza tale da affrontare gran parte dei contenuti iniziali. Una volta che la stagione finirà, e la stagione la vedete qua in alto su Season Pass, avete tutte le missioni da fare, io ne ho fatte un bel po'. Praticamente ad esempio a livello 23 sbloccate una cosa, un'altra, un'altra, un'altra. Potete acquistare anche uno Spirit Pass per avere un premio aggiuntivo, ma non è obbligatorio. Questa è una stagione che va avanti dal 24 di maggio. La stanno prolungando perché doveva già finire due settimane fa, ma non so perché la stanno prolungando. E andando avanti ottenete un sacco di oggetti che poi comunque vi serviranno sia per potenziare il vostro personaggio che per ottenere altre cose che normalmente sono importanti. tenete conto che io gioco da anni, ho giochicchiato qualche ora ogni anno, non mi ci sono mai dedicato, questo è il periodo in cui mi ci sono buttato di più. Io ho messo da parte un bel po' di roba. Tra l'altro hanno aggiunto con, negli ultimi anni o mesi, una quest lunghissima, su un 100 quest, l'ho fatta. E praticamente ci consente di andare sulla mappa e di entrare, dove vedete questi simboli qui viola, i pozzi, per poter usare il teletrasporto e teletrasportarsi in altri punti dove ci sono questi pozzi. Scusate, questo dovrebbe essere uno qui. in giro per la mappa ovunque, anche dall'altra parte del mondo, ce n'è uno, anche qui potete uscire qua. Vi potete teletrasportare al costo di qualche milione. Si parla di 3 o 5 milioni, insomma, fino a 6 milioni mi pare. Quindi, vabbè. E tenete conto che un personaggio di livello 57, io ho fatto 20 minuti qui di farming di mostri che si rigenerano piuttosto rapidamente. Ho fatto una trentina di milioni, giusto per rendervi l'idea, mi sono ripagato il viaggio. Come si fa a guadagnare soldi? Lutando. Si prende tanta roba trash, che poi si vende a un vendor e quella vale veramente tanto. Quindi i soldi si fanno, non è quello il problema. Ma, non solo. Questa quest, che si chiama Magnus, che ottenete a livello 56, vi darà la possibilità, che è comodissima, di accedere a ogni città, perché ogni città, adesso ve lo spiego meglio, ogni città ha un inventario, che potete espandere, comprando nelle varie, affittando le varie case, adibendole a magazzino, si espande di tre ogni casa che prendete, tre o quattro. Comunque ogni città ha il suo inventario, la sua banca, a idle o altre cose. Ecco, normalmente senza la Magnus, se volete prendere un oggetto, dovete andare in quella città. Con questa quest, io posso prendere da qualsiasi città io abbia esplorato. E guardate gli oggetti che io ho accumulato, nel corso di queste ore, ma che tanti avevo già, ho accumulato un sacco di pietre, un sacco di oggetti, questi sono oggetti che, vedete che c'è il divieto, perché è un oggetto che posso montare, sul personaggio non stagionale, quindi mi sono già accumulato, un po' di equipaggiamento, anche grazie alla Season. Questo è una armatura dei guanti, a livello massimo, ve ne dà uno la stagione. Poi c'è tanto altro, insomma. Qua c'è un altro di quelli sette giorni, del value pack, e poi ho accumulato un sacco di altre risorse, insomma, che mi serviranno. Le risorse imparerete a capire, cosa servono. Ad esempio, questi sono tutti i vantaggi, e una delle meccaniche del gioco, se vi piace, insomma, io ve la spiego, voi decidete che un pomeriggio volete dedicarvi un po' a rilassarvi e fare un po' di, non so, processing, oppure cucinare, far salire la vostra skill. Vi prendete la pergamina che aumenta l'esperienza, piuttosto che la pozione che vi aumenta il guadagno dell'esperienza. Ecco, questi sono tutti gli oggetti che ho accumulato. Quello che si può fare nel gioco, secondo me, non lo si trova in nessun altro gioco, ed è il motivo per cui io comunque ho voluto fare questo video, perché di free to play ce ne sono, ma sono prevalentemente tutti o sul combattimento o sul pvp, qui c'è il pvp, non l'ho ancora sperimentato perché essendo stagionale, in personaggio stagionale, non ho il pvp attivo, quindi non mi possono fare niente, anche i server sono diversi. Ma, quello che voi potete fare, in sintesi, è seguire la storia, fare la quest, decidere di comprare case di vendole a vostra residenza per poterle arredare, metterci tavoli da lavoro, lavorare, piuttosto che andare a creare delle catene di produzione che poi vi consentiranno di fare soldi. Potete andare a tagliare alberi, uccidere animali, raccogliere la linfa dagli alberi, il sangue dagli animali, la pesca, e la caccia, cioè addirittura, io ho preso il moschetto qui, questo qui che io posso caricare e posso andare a caccia, facendo salire la mia abilità di caccia. Dopodiché, tagliare le minari metalli, ce ne sono diversi, scuoiare, tosare gli animali, quello che volete, più, qui, ho più o meno detto tutto, la cucina, l'alchimia, l'allevamento di cavalli, potete fare incrociare i cavalli e mettere un vostro allevamento, quindi creare dei cavalli molto belli a livello di skill, che puoi rivenderle all'asta per qualche miliardo, il trading, si tratta il classico, la classica meccanica coreana dove dovete andare da punto a punto trasportando la merce in mano, un po' come si era già visto su Archage, il farming, perché potete piazzare anche il vostro articello, non è istanziato nel mondo, però lo vedete solo voi, dove coltivate le vostre verdure, i vostri semi, la navigazione, perché potete avere delle navi, io totalmente ne ho due, e il barter, e quindi la capacità di fare il padley, quindi trattare a parole con un minigioco per alzare il prezzo di vendita, cioè voi vendete, insomma loro comprano e vi pagano di più, e inoltre c'è questo il processing, che il processing a sua volta si divide in lo shaker, lo schiacciare, il mortaio, il chopping, quindi raffinare, il essiccare, il filtrare, il riscaldare, c'è l'alchimia semplice, la cucina semplice, quella che non richiede un tavolo da lavoro, e poi altre cose ancora, quindi di cose assolutamente da fare ce ne sono, abbiamo parlato di housing, le mount ci sono e sono tanti, i cavalli salgono di schilla, avete inoltre la gestione dei laboratori che lavorano per voi, io ho un laboratore che lavora qui in giro, e mi produce del miele, che poi mi serve perché ho un progettino da fare, io ne ho tanti altri, che dovrò dargli una location, e altre meccaniche interessanti, giusto per fare questa spiegazione, i punti esperienza non sono solo questi in alto a sinistra, ma sono anche questi, che sono gli skill point, quindi si ottiene magari combattendo o come reward delle quest soprattutto, e guadagnando questi punti potete andare a sbloccare o potenziare le skill che avete, in questo è base, perché poi c'è il succession e l'awakening che non vi spiego perché insomma è abbastanza complicato, andando avanti potete anche completando le quest ottenere dell'esperienza nell'energia, l'energia che cos'è? Sono tutte quelle azioni di gathering, quindi quando raccogliete dei campi, quando raccogliete delle mail, quando interagite con qualcosa o chiedete a un personaggio di una determinata conoscenza che volete acquisire, consumate energia, l'energia aumenta un punto ogni tre minuti, di più se vi mettete nel letto, in casa, ecco, aumentando l'esperienza di energy, il massimale aumenta e poi infine il contribution point che anche qui salgono, tenete conto che quando arrivate a 425, io sono solo neanche 200, l'esperienza salirà molto più lentamente. Il contribution point, e qua arriviamo alla meccanica principale del gioco, vi serve per uno, noleggiare oggetti in giro, che so, uno vi dà un campo, non avete vinto un campo da coltivare, c'è uno che dice, ok, mi dai due contribution, io ti do il campo, fino a quando voi non ha istituito il campo, lui si tiene quei due contribution point, ma la cosa più importante nel contribution è il fatto che, se voi notate qui, ci sono queste linee dorate connesse, io, questi connessi, sono tutti punti, connessi tra loro, dove io ho speso da uno a due, tre punti, ognuno, e se voi andate a creare una rete di più punti connessi, potete poi avviare le missioni di trasporto merci e guadagnare soldi, e il collegamento vi consente di acquisire sempre più punti, perché ogni punto acquisito magari ha dei punti come questo, il gathering, se io ce l'ho, posso mandare un lavoratore a lavorarci, alla Imp Cave, io ho preso anche questo no, ma ho preso questo, e io qui posso decidere di mandare un artigiano a scavare, e quindi lo mando e in 43 minuti lui avrà scavato e depositerà a velia nella mia banca i materiali scavati, vedete, ce ne sono già altri scavati, e quindi questa è un'altra meccanica, quindi ricapitolando, ci sono i boss comuni, i boss mondiali, che potete affrontare insieme ad altri giocatori, che sono poi identificati adesso qua, si vedono, credo, con delle icone molto grosse di mostri, e ogni regione vi dà che tipo di caratteristiche di difesa, di attacco dovete avere o che livello per affrontarli, quindi le cose da fare in gioco sono tante, qui in mezzo c'è anche il deserto, che dovete attraversare con la bussola, con l'acqua, insomma, di meccaniche ce ne sono tante, il mondo è immenso, qua sotto ci sono le nuove zone aggiunte con una delle patch precedenti, invece l'ultimissima ha aggiunto l'isola sullo stile coreano qua, sulla estrema sinistra in alto, oltre il mare, quindi, di contenuti ce ne sono, vi consiglio di giocarlo nel 2023, io vi dico di sì, perché la gente ce n'è tantissima, io qua magari non vedete i nomi, perché li ho tolti dalla grafica, se no vedrai un sacco di nomi, e la sera c'è molta più gente, però ci giocano svariate migliaia di persone, quindi, insomma, di gente che gioca ce n'è, ovviamente è un gioco dove non dovete avere fretta di fare e ottenere le cose subito, anche solo entrare e fare qualcosina e poi sloggare ci sta, c'è un'altra cosa di cui non tutti sanno, vedete questi personaggi qui pescano, pescano e ottengono esperienze e oggetti, ma una cosa interessante è che quando vi mettete a pescare, se andate su Disconnect e poi fate Minimize to Tray il gioco si riduce a finestra, cioè non lo vedete più, lo vedete nella barra in fondo, in basso a destra vicino all'orologio, il gioco non consuma più risorse, ne consuma un quantità minimo per dire, col gioco attivato io ho il pc che spara in aria calda a mille, quando vado lì il gioco continua ma non consuma niente e lì lo lasciate andare, se dovete fare qualcosa, dovete studiare, dovete guardarvi un film, dovete fare qualsiasi cosa e il computer è acceso, pesca da solo, ovviamente qui vi porterà in svantaggio rispetto a chi magari lascia il pc acceso un anno a pescare, a ottenere oggetti, ma chi se ne frega, nel senso che anch'io non sarò mai nessuno in questo gioco, ma il gioco mi consente di fare quello che voglio e secondo me è uno dei più ricchi perché io sono un amante dell'housing, sono un amante del crafting, del gathering, sono un amante anche dei mostri che comunque il sistema di combattimento, cioè adesso parliamone, ho imparato tutte le quest, posso prendere a calci, colpire a mano, questa è la classe del ranger, ecco, poi inizierete a conoscere anche i personaggi importanti, ma la cosa bella è che arrivati in un posto nuovo, vedete gente che dà quest, ok, le quest classiche vi danno un po' oggetto che, oh cavoli, che cos'è, lo prendo e scopro una nuova meccanica, il gioco è ricchissimo di segreti, cioè se non volete seguire le guide online non fa per voi perché magari qualche guida io la seguo ogni tanto per scoprire che guarda che se vai prendi quell'oggetto a nuleggio da quel tizio puoi fare quella cosa ogni giorno, cioè c'era questa cosa dove io noleggiavo un oggetto, lo usavo, lo restituivo e praticamente ottenevo una pietra al giorno, no? E' una delle mille meccaniche di questo tipo, questa è la mia casa, non ci ho messo dentro ancora molto, le maid, le cameriere in casa, pienamente stile coreano, ma che cosa servono? Quando voi siete lontani da casa, lontani dalle città e volete trasferire oggetti direttamente dal vostro inventario potete andare qui dove ci sono tutte le maid e queste le ho ottenute tutte senza pagare niente, le ho ottenute in gioco, potete usare quelle del market per mettere in vendita o per elevare qualcosa o quelle dallo storage, quindi io ne seleziono una, open storage, io posso prendermi un oggetto al volo della regione in cui sono senza doverci andare fisicamente e basta e lei poi tornerà nuovamente disponibile nel giro di 40 minuti circa, adesso io non ho preso niente quindi non me l'ha consumata e in casa poi potete andare a mettere i tavoli da lavoro dove poter craftare roba, io craftavo birra, vedete qua ci sono le ricette e poi le scoprete man mano. Ho tutti gli animali e gli animali anche loro sono molto interessanti perché se li attivate vi lutano i mostri per conto vostro quindi loro vanno voi falciate nemici come un muso ad esempio e e poi vi fate i conti in tasca dopo di quello che avete guadagnato di quello che avete accumulato da vendere ci sono mille cose ad esempio questo qui scambia dei fondi di bottiglia che voi pescate e quando ne ho 5 posso prendere 900 punti esperienza per i contribution point quei punti per sbloccare i punti sulla mappa e 30 di esperienza piuttosto che io ho preso ad esempio il Creo Fishing Chair che ci fa pescare più rapidamente però non lo posso usare ho preso il suo sgabello ma non lo posso usare perché perché se clicco mi dice guarda qui sei in stagionale non lo puoi equipaggiare e quindi avete un po' l'esperienza limitata ma ci sta perché se siete agli inizi vi può servire un boost io ho ben buttato via 2000 pietre piccoline di quelle per potenziare gli oggetti di inizio gioco probabilmente devo ottenerle ma quelle sono bondati al personaggio singolo tutto l'inventario che abbiamo visto prima tutti gli oggetti depositati in quella banca divisa tra tutte le città è comune a tutta la famiglia dei vostri personaggi quindi se inizia la stagione nuova io faccio un nuovo personaggio creo una nuova un nuovo personaggio una nuova classe i punti che ho sono questi i punti contribution sono questi e i punti sulla mappa sbloccati sono quelli quindi le quest paese sono le stesse però il personaggio parte dal primo livello si fa tutte le quest si fa tutta la storia di catene di quest ce ne sono poi c'è modo di andare a vedere tutte le quest suggerite in base a ci sono un sacco di quest che io non ho fatto che andrebbero fatte stagionali dove vi danno degli oggetti che vi serviranno in futuro quindi questo è a grandi linee il gioco ad oggi sono stati aggiunti anche dei dungeon pwe non ho ancora capito dove sono ma li farò andrò a vedere come si fanno come ultima cosa vabbè vi faccio vedere potete anche camminare furtivi tipo a un certo punto dove ci sono delle quest dove si cammina anche furtivi ci si muove furtivamente senza farsi beccare lì c'è qualcosa c'è un personaggio che ho conosciuto in passato adesso vediamo se vado su qui vedete che c'è come lo stalliere ma per le navi quindi posso vedere le navi che ho io ma non ho niente perché le navi ce le ha no è questo scusate è questo queste sono le mie navi la bagnarola e la indie donos che è questa nave qui che ho preso 10 milioni non serve per fare soldi ovviamente se non volete prendere parte alle meccaniche veramente devastanti di potenziamento oggetti perché quello bisogna avere assolutamente pazienza perché se un oggetto poi soprattutto i gioielli li potenziate e poi fallisce il potenziamento lo perdete si possono comprare anche all'asta non questi del season ma quelli regolari sì e si pagano mentre voi dite ok il gioco mi dona ogni giorno 5 milioni e 4 qualcosina in più perché sono in season beh calcolate che e ho attualmente un miliardo calcolate che gli oggetti di altissimo livello costano anche 200 miliardi quindi non è tanto ecco tutto lì quello che volevo dirvi e vedete qua c'è una main quest qui inizia un'altra catena di quest e questa tizia qui l'ho conosciuta nella sezione del magnus che è la quest a livello 56 57 da 7 che vi dà i tele trasporti lunghissima e quella questa mi è piaciuta perché a parte che è lunga un po' tediosa ma era pieno di puzzle da risolvere all'interno di un gioco di ruolo online quindi ecco secondo me a livello di giochi di ruolo a pagamento Final Fantasy è il migliore al momento ovvio certo World of Warcraft è doppiato in italiano il mountain volanti tante cose tante cose carine però secondo me è superiore Final Fantasy 14 ci ho giocato tante ore devo dire ma sul free to play o il buy to play potrebbe venirevi da giocare New World potrebbe venire da giocare Albion Eve Online Eve Online vabbè lasciamo perdere ma questo secondo me è uno dei più completi uno dei più ricchi ovviamente può non piacere lo stile coreano quindi con le fisse su costumi costumini e balle varie può non piacervi l'uccidere monstri a destra a sinistra in loop però di cose da fare è innegabile che ce ne sono e anche la cura del mondo assolutamente dal mio punto di vista eccezionale non vi ho parlato anche della fatina questa è una meccanica che ho sbloccato da poco sto ancora prendendo tutti gli oggetti potenziali le armature diciamo incantate che trovo che non mi servono che non uso perché si usa il kit che si sta realizzando che si sta che devo portare adesso come season ma in futuro avrò il mio set che cercherò di completare poi non cambierò più e li date impasto alla 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 fatina o gli date il miele o gli date aumenta e vi dà delle caratteristiche in più lei è sempre qui in volo intorno a voi e vabbè allora ragazzi insomma fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video avevo fatto video anni fa su questo gioco e ci tengo a sottolineare che non è morto anzi è uno dei più giocati su steam new world mi è piaciuto tantissimo anche quello parlando di mmo perché è doppiato in italiano è tutto in italiano l'ambientazione coloniale non mi fa impazzire il combat è eccezionale però alla fine l'housing ok però si combatte si fa pvp qua potete fare tutto e c'è se avete la voglia di leggere una gran quantità di dati di lore di conoscenze da parlare veramente ce ne sarebbe tantissimo tutti questi menu qui vi spiegano tutto insomma se vi va di vedere un video magari di approfondimento su qualcosa di preciso fatemelo sapere qua sotto so già che non me lo scriverà nessuno perché nessuno è arrivato in questo punto del video ma se qualcuno dovesse qualche buona anima arrivata fino a questo punto e vuol sapere qualche info in più magari un suggerimento per un video di approfondimento su questo titolo non esiti a scrivermelo qua sotto io vi saluto vi ringrazio e vi rimando in un prossimo videogameplay alla prossima e ciao ciao